Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a tutti i nostri fiducia e oggi stiamo in un nuovo video per tutta l'estate ormai è quasi finita l'estate per tutto l'anno scolastico diciamo e ben ritrovati nel settimo episodio della serie di Slither io grazie a Luca Mami che un paio di mesi fa ci ha detto di iniziare questa serie ora siamo al settimo episodio mi raccomando ognuno pensa sempre che un domani non ci sarà un altro episodio di Slither io di mio allora cominciamo male è già follata strada follata mal accompagnata perfetto e mi ho detto raga non fateci caso comunque ma no ma già abbiamo appena iniziato sono da 45 secondi che abbiamo appena iniziato allora questo è un gioco parecchio difficile allora non è iniziato la gara per favore prendi lì prendi lì prendi lì prima che per il store ti vada forkroyd urbanist pomploro vai 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 prendiamo settimo episodio ragazzi mi arrivate quasi ai dieci ai dieci video di una serie dieci video ragazzi sono tanti è possibile che cosa vuoi da me che cosa vuoi no raga 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 oh oh la b oh baby no ok raga siamo salvi siamo salvi no 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 non siamo salvi non siamo salvi raga non siamo salvi per niente oh però dai però vedo un po' che non è la stessa partita perché è già la seconda partita che faccio qui poi insomma dai no non provare io non sono diefici io non sono scemo non ci casco invece ci sono cascato e invece ci sono cascato regalo ma comunque non lo so questa qua credo che sia l'ultima puntata cioè l'ultimo video della serie perché non forse non vado più avanti non potrei più andare avanti oh è morto è morto è morto è morto eh a mangiare i punti succede questo a mangiare i punti degli altri che si muore potrebbe essere incasinata la cosa non è vero è un pompone ho mangiato anch'io ma non per caro idiota la gente è proprio ma fa cose che non hanno senso via 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 le parti dalle scatole le parti dalle scatole pip pip ok mangia questo oh un po' di cibo tanto per cambiare mmm 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 sta vedendo oh che grande oh mi sono allargato che strano vieni qua che ti mangio no no i piccoli non mi piacciono mi mettono un po' con i piccoli sono più potenti ah eh te l'avevo detto io comunque ragazzi ci vediamo un altro un altro oh giusto devo cominciare va tanto tanto del settimo episodio che ci credi che ci credi o no sono sette episodi forse anche forse anche otto forse anche sette magari non ne faccio un otto ecco perché mi fanno un ragione oh è morto qualcuno qua no mai mi fanno mi 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 antistress per favore ecco mi prendo un antistress mi prendo loro come un antistress per disesame da sto gioco raga ecco perché io non volevo fare la serie capite adesso eh io volevo tipo fare una serie tranquilla tipo di minecraft che è tranquilla parliamone tranquilla la serie ma parliamone che minecraft è tranquilla ok prima parliamone però insomma dai è più tranquilla che questo gioco ma lasciami ma cosa vuoi non vuoi vedere come ti faccio non vuoi vedere come voglio io mi vado a sientare non capisco perché è questo gioco grazie a tutti se tocca gli altri muori non so perché evidentemente è così no 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 I'm a protest I'm a protest non vuol dire niente no 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 brutto schifoso vieni qua che ti ammazzo eh ti ammazzo dai che puro che zio che vieni qua vieni io ti tormento no tu devi andare a morire qualcuno può ucciderlo questo schifoso ragazzi una cosa che mi insegno quando vedete una pubblicità nei vostri giochi su un altro gioco è perché quel gioco fa schifo per questo che devo fare la pubblicità eh no è bello vieni qua dai che ti faccio morire tipo ah settimo episodio tu ti levi per favore o ti devo uccidere non voglio io sono pacifista non vuoi fare